L'ondata di freddo e maltempo era stata annunciata e questa mattina puntuale la prima neve mescolata a pioggia ha iniziato a cadere in città. I fiocchi hanno raggiunto anche le basse quote e i paesi della provincia piacentina. Sulle strade di città e provincia si sono verificati disagi soprattutto per quanto riguarda la circolazione. In mattinata si sono registrati i primi incidenti dovuti al fondo reso viscido dalla neve scesa copiosa anche a bassa quota a Campremoldo un furgoncino è uscito dalla carreggiata e ha terminato la propria corsa all'interno di un canale. Il conducente non è grave ma ha riportato una lussazione alla spalla oltre a diversi traumi in varie parti del corpo. Domani è prevista una schierita temperatura ancora in calo a Piacenza si toccheranno in meno tre gradi. Lunedì prevista ancora neve poi schierite e bel tempo fino a venerdì. Agli automobilisti si consiglia l'utilizzo di gomme invernali e di informarsi prima di mettersi in viaggio sulle condizioni delle strade e sulle previsioni del tempo. Grazie a tutti.